Ciao ragazzi e ben ritrovati all'appuntamento della collezione dei Mighty Max Oggi volevo mostrarvi il Doom Zone inerente alla serie Mighty Max affronta la paurosa tigre Zanna Lunga Vediamo infatti come esteriormente raffigura la testa di una tigre dai denti a sciabola Bella le zanne insanguinate E adesso vediamo cosa c'è all'interno Allora, bisogna aprire da qui, dalla bocca E vediamo come all'interno si è rappresentata una, potremmo dire, un'era preistorica Col nostro uomo di Neandertal Che solleva un masso Un mammut E poi vediamo come apriamo meglio Ecco qua Si è proprio la grotta, la caverna dove vive l'uomo di Neandertal Piena di accessori C'è anche, non sbaglio, una corda Si Ecco qua E' carino E qui poi naturalmente una trappola dove cadono le sue, ci possono cadere le sue vittime Davvero un bel set Mettiamolo qui Bene ragazzi Vi rimando a un altro video della mia collezione Alla prossima Grazie